Lorenzo Cecchini sta per iniziare la fase finale della stagione con lo scontro dei quarti finali contro la Petriana. Sarà diverso rispetto alla gara di campionato che si è giocata sabato scorso a palla di Cucci? Secondo me non tanto. Avremo quel livello di intensità, di equilibrio e di attributi per portarla a casa alla fine. Quindi è una sfida molto importante, potrebbe andare anche in gara 3 e a quel punto si giocherà in casa l'eventuale bella palla di Cucci? Sì, la gara di domenica scorsa è stata un inizio, un'anticipazione di quello che succederà ai play-off. Noi abbiamo lottato per rientrare da o meno 15 e dobbiamo avere la consapevolezza che magari il frutto di questa lotta lo andiamo a raccogliere giocando un'eventuale gara a 3 in casa. Ogni giocata sarà fondamentale, ho dimostrato il campionato con l'ultima giornata con tanti croci che ci potevano essere. L'equilibrio è stradominante dal secondo all'ottavo posto ma anche per il primo posto, per cui ogni giocata va sfruttata al 100%. Sì, se c'è una parola per descrivere questo campionato qua è equilibrio. Io penso al campionato dello scorso anno senza nulla togliere all'Aprilia, ma noi senza Mike e Jamel siamo riusciti a passare il primo turno contro Aprilia. Io non credo che il livello della settima, dell'ottava, della sesta di quest'anno sia un livello così inferiore rispetto alle prime tre. Qua ci facciamo vedere una cosa molto interessante direi per gli spettatori, la maglia di Fabriano. Facciamo proprio vederla adesso. La domanda forse è un po' cattivella. Lei ha allenato due anni ed è coach di Fabriano e poi è andato via. Due anni ed è coach di Tolentino e poi è andato via. Lei alla fine del secondo anno ha civile vecchia. Che succede per il futuro? Allora io però ho allenato tre anni a Tolentino. Tre anni per cui? Tre anni a Tolentino, per cui ho un contratto anche per l'anno prossimo, sto bene qua. Ci sono persone eccellenti, quindi spero che per il futuro ci penserò tra quattordici mesi. Grazie. 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 Grazie.